Buongiorno a tutti, oggi mi trovo a Comano e sono qua per mostrarvi un appartamento di due mezzo locali. Sono all'esterno, è una casa costruita nel 2010 con un totale di quattro appartamenti. Sono a piano terra, avete visto, intravisto anzi, il giardino. Competenza, privato, tra l'altro c'è la manutenzione che è inclusa, ovvero taglio dell'erba. Ed eccoci qua, si entra direttamente nella zona giorno, quindi salotto con uscita poi di nuovo sul giardino e la cucina a vista. Scopriamo subito la cucina. Allora, qui si trova la colonna frigo e congelatore, tre cassetti. Subito accanto abbiamo la lavastoviglie, quindi un bel piano di lavoro, un granito. E dopo il piano cottura in vetro ceramica e forno elettrico. E prosegue poi l'isola. L'appartamento ha una superficie totale di 55 metri quadri, con la parte frontale di giardino di circa 30 metri quadri. È un bello spazio. Eccoci. Sono ammessi gatti, in specifico. Abbiamo una bella vista, una zona molto tranquilla, molto ambita, con comano. Il terrazzino è anche coperto, dal balcone al piano superiore. E rieccoci, quindi in salotto. Il salotto, tra l'altro, ha una superficie di 33 metri quadri, in assenza spazioso. E andiamo adesso a scoprire la camera da letto. L'appartamento verrà consegnato vuoto. Eccolo qua. La camera ha una superficie invece di 15 metri quadri, quindi risulta una bella camera. Sufficemente spaziosa per comodini, letto e anche un armadio abbastanza grande. Ed infine, nella camera, abbiamo anche il bagno. Bagno completo di vasca. Facendo una luce. Completo di vasca, dicevo. Lavabo con specchiera armadietto. Qui il water. E dietro la porta abbiamo anche la possibilità di installare una lavatrice. Quindi resta l'attacco e ognuno si dovrà, l'inquilino, si dovrà poi munire di una propria lavatrice. Bene, come detto, gli animali sono ammessi. A disposizione dell'appartamento anche posteggi esterni non coperti. Uno oppure due. Ed è tutto. Venite, può essere l'appartamento ideale per una coppia, un single che lavora qui in zona Lugano, che prende l'autostrada. Effettivamente l'autostrada risulta di comodo accesso. È tutto. Grazie. A presto. Ti affitto.